Un mese fa ho iniziato a seguire il regime alimentare della dieta Dukan. Ho fatto tutto da solo, semplicemente seguendo le indicazioni del libro. Vuoi sapere come è andata finora? Ok, racconta. Sono curiosa. Prima di iniziare pesavo 104,9 kg stamattina la bilancia segnava 99 kg. Quindi ho perso 5,9 kg in 30 giorni. So di persone che hanno perso lo stesso peso già nella prima settimana. Io sono comunque soddisfatto di questo mio risultato, almeno per tre motivi. E quali sono questi motivi? Il primo motivo è che, dimagrire con questo metodo, finora è stato facile e non mi è costato particolari sacrifici. Ottimo. Il secondo motivo è che non ho fretta di raggiungere il mio giusto peso. Anzi ritengo che, perdere tanti chili in troppo poco tempo, possa essere addirittura controproducente. Giusto. E il terzo motivo? Scendere sotto la soglia psicologica dei 100 kg, per me, è stata comunque una conquista non da poco e, oltre al fisico, anche il morale ne ha tratto un notevole beneficio. Grazie. 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 Grazie.